Trasformare la sofferenza Che cosa possiamo fare per trasformare i semi della sofferenza radicati nel profondo di noi stessi? Ci sono tre metodi. Il primo consiste nel concentrarci sulla semina e l'irrigazione dei semi della felicità. Non ci occupiamo direttamente dei semi della sofferenza ma lasciamo che siano quelli della felicità a trasformarli. Si tratta di una trasformazione indiretta. Il secondo metodo consiste nel praticare con costanza la presenza mentale in modo da riconoscere i semi della sofferenza appena si sviluppano. Ogni volta che si manifestano lasciamo che la luce della consapevolezza li illumini. I nostri semi sono campi di energia come la presenza mentale. Quando i semi della sofferenza vengono in contatto con la presenza mentale si indeboliscono e la presenza mentale li trasforma. Il terzo metodo per curare le afflizioni che ci portiamo dentro sin dall'infanzia è invitarle deliberatamente ad affiorare nella nostra coscienza mentale. Chiamiamo a noi la tristezza, la disperazione, i rimpianti, la nostalgia che in passato abbiamo avuto difficoltà a contattare. Ci sediamo e parliamo con loro come se fossero vecchi amici ma prima di invitarli ed emergere dobbiamo essere sicuri che la lampada della presenza mentale sia accesa e che la sua luce sia stabile e forte. Riconoscere la sofferenza Supponiamo di praticare la meditazione camminata per entrare in contatto con le meraviglie della vita ma mentre camminiamo affiora nella nostra mente un'immagine dell'infanzia ed emergono emozioni dolorose come paura e disperazione. In casi come questo camminiamo ma non ne gioiamo, camminiamo ma non siamo in paradiso, siamo all'inferno, soffriamo e il primo passo è riconoscerlo, c'è sofferenza in me. Ispirando So che in me ci sono sofferenza, disperazione, infelicità e paura. Ispirando Abbraccio la sofferenza in me. Grazie alla presenza mentale e alla concentrazione possiamo ritornare a quell'immagine e scoprire che cosa l'ha provocata. Sento questo perché sono entrato in contatto con quello. Per mezzo della presenza mentale e della concentrazione possiamo gestire quell'immagine con la visione profonda che non siamo più bambini inermi, ma adulti forti, capaci di proteggere noi stessi. Alcuni di noi sono immigrati. Molti di noi, dal sud-est asiatico, hanno traversato l'oceano come Bot People, per rifugiarsi in occidente. Nota Bot People, gente delle barche, era il termine usato dall'Alto Commissariato per i rifugiati politici delle Nazioni Unite, per definire i profughi sud-vietnamiti fuggiti su imbarcazioni di fortuna tra il 1975 e il 1979, in seguito all'avanzata dell'esercito del Vietnam del North. Spesso rifugiati dai governi ai quali chiedevano ospitalità, Singapore, Hong Kong, Indonesia e Thailandia, erano costretti a vivere sulle imbarcazioni. Si calcola che circa mezzo milione di persone siano fuggiti all'estero e che un quarto di loro abbia perso la vita. Thich Nhat Hanh e soprattutto la monaca Chang Kong, sua vicina collaboratrice, hanno in diverse occasioni cercato di portare il loro soccorso e di denunciare la situazione a livello internazionale. Grazie alla loro azione, alcuni paesi come Stati Uniti e l'Australia aumentarono il numero dei visti riservati ai profughi vietnamiti. Durante questi viaggi eravamo molto spaventati. La nostra imbarcazione poteva affondare in ogni momento, potevamo affogare, essere uccisi o feriti da squali o pirati. Chi come noi ha affrontato viaggi simili conserva ancora nella coscienza l'immagine di tutti quei pericoli. Ora abbiamo raggiunto l'altra riva, siamo stati accettati come rifugiati, siamo sulla terra ferma, ma talvolta lo dimentichiamo ed emergono le immagini di quei momenti, ancora capaci di farci soffrire sebbene siamo salvi. Ogni volta, insieme ai ricordi, affiora di nuovo anche la sofferenza, nonostante quell'esperienza dolorosa risalga a molti anni addietro. Molti di noi sono ancora prigionieri del mondo delle immagini, ma ciò che conta è che sono soltanto immagini, non sono più la realtà. Mentre inspiriamo ed espiriamo con consapevolezza, possiamo raggiungere la saggezza e la capacità di vedere in profondità. Supponiamo di portare dentro di noi un quadro che rappresenta l'oceano dove potevamo affogare. Quando lo guardiamo, proviamo paura e sofferenza, ma la presenza mentale e la concentrazione possono destare in noi la visione profonda che si tratta solo di un quadro, non dell'oceano, e che è nell'oceano che rischiamo di affogare, non in un quadro. Quando ci portiamo dentro le formazioni mentali della disperazione e della sofferenza, possiamo osservare e vedere che questo nasce da quello. La sofferenza nasce quando un'immagine del passato sfiora di nuovo la mente. La realtà è che siamo salvi e capaci di gioire della vita nel momento presente. Quando riconosciamo che la nostra sofferenza si fonda su immagini e non sulla realtà attuale, allora è possibile vivere felicemente nel momento presente. Questo è il potere della presenza mentale e della concentrazione. Manas Una delle principali ragioni per cui evitiamo il nostro bambino interiore è la paura di soffrire. Questo accade perché tra la coscienza mentale e la coscienza deposito c'è una parte chiamata Manas, che ci spinge a cercare il piacere e a evitare il dolore. Manas È alla base della nostra credenza illusoria e non sé separato e noi soffriamo a causa delle sue illusioni e discriminazioni. Quando un pesce vede un'esca appetitosa, ha l'istinto di morterla. Non sa che vi è nascosto dentro un amo e che se la morderà verrà strappato fuori dall'acqua. Grazie alla presenza mentale, prendiamo coscienza dei pericoli creati dalla ricerca continua del piacere. Possiamo scoprire i semi della saggezza nella coscienza deposito per aiutare Manas a trasformarsi. Questa è la funzione della coscienza mentale. Le sei caratteristiche di Manas Manas ha molte tendenze. La prima consiste nell'essere sempre alla ricerca del piacere, la seconda nel cercare di evitare la sofferenza e la terza nell'ignorare i pericoli della ricerca del piacere. Rincorrere il piacere sensuale può distruggere il nostro corpo e la nostra mente. Se osserviamo in profondità l'oggetto della nostra abidità, possiamo avvertire il pericolo. La quarta caratteristica di Manas è ignorare i benefici della sofferenza. La sofferenza ha la sua specifica bontà e ognuno di noi ne ha bisogno in una certa dose per crescere, per comprendere e coltivare la compassione, la gioia e la felicità. La nostra gioia e la nostra felicità possono venire riconosciute soltanto sullo sfondo del dolore. Se non avessimo sofferto la guerra, non saremmo capaci di apprezzare la pace. Se non avessimo sofferto la fame, non potremmo apprezzare pienamente il pane che abbiamo. È meraviglioso avere qualcosa da mangiare. Solo se sappiamo cosa significa non avere di che sfamarsi, è possibile questo genere di felicità. Nella vita di ognuno si presentano situazioni di pericolo. Quando esse tornano alla memoria, apprezziamo più pienamente l'attuale sicurezza. È grazie alla nostra sofferenza che abbiamo la possibilità di apprendere la comprensione e la compassione. Attraverso l'esperienza e la comprensione del dolore può sorgere la compassione. Non vorrei mandare i miei amici o i miei bambini dove non esiste dolore, perché in un posto simile non avrebbero l'opportunità di imparare a coltivare la comprensione e la compassione. Il Buddha ha detto che, se non abbiamo sofferto, non è possibile apprendere alcun sentiero. Se il Buddha ha raggiunto l'illuminazione è perché ha provato molto dolore e a nostra volta noi troviamo il Buddha per mezzo della nostra sofferenza. La sofferenza è il sentiero. Attraverso di essa possiamo riconoscere il sentiero di illuminazione, compassione e amore. È attraverso la visione profonda della natura del dispiacere, del dolore, della sofferenza che possiamo scoprire la via. Se non sapessimo cosa significa soffrire, non ci sarebbe modo di trovare il Buddha e non avremmo alcuna possibilità di generare pace e amore. È proprio perché abbiamo sofferto che ora abbiamo l'opportunità di riconoscere il sentiero che conduce a liberazione, amore e comprensione. La tendenza a scappare dalle esperienze dolorose è in ognuno di noi. Pensiamo che se cerchiamo il piacere evitiamo il dolore, ma non funziona così. Questo atteggiamento non fa che impedire la crescita e la felicità. La felicità è impossibile senza comprensione, compassione e amore. Non può esserci amore se non comprendiamo la sofferenza nostra e dell'altra persona, mentre il contatto con il dolore ci aiuta a coltivare affetto ed empatia. Senza comprensione e amore non possiamo essere felici e rendere felici gli altri. In tutti noi ci sono i semi della compassione, del perdono, della gioia e della mancanza di paura. Se cerchiamo costantemente di evitare la sofferenza, questi semi non avranno modo di crescere. A Plum Village, dove vivo, abbiamo uno stagno di fiori di loto. Sappiamo che un fiore di loto non può crescere senza fango. C'è bisogno del fango per far nascere questo fiore. Non possiamo piantarlo sul terreno asciutto. Il fango svolge una funzione vitale nella fioritura del loto. La sofferenza svolge una funzione vitale nella fioritura della comprensione e della compassione. Dobbiamo abbracciare la nostra sofferenza e guardarvi in profondità può insegnarci molto. Quando il seme della paura, dalla profondità della nostra coscienza a deposito, emerge al livello della coscienza mentale, la pratica consiste nell'invitare anche il seme della consapevolezza a manifestarsi. La consapevolezza ci aiuta a essere realmente presenti per riconoscere e abbracciare la sofferenza senza suggirle. All'inizio, la nostra presenza mentale non è sufficientemente forte per sopportare il dolore e il dispiacere, ma se pratichiamo, specialmente con il sostegno di una comunità, diventerà abbastanza forte da sopportare il dolore e il dispiacere e la paura. Ciascuno di noi ha bisogno di una dose di sofferenza per coltivare comprensione e compassione, ma non dobbiamo crearne altra. Ce n'è già abbastanza in noi e intorno a noi. La coscienza mentale è in grado di imparare dall'osservazione della sofferenza per poi trasmettere questa conoscenza alla coscienza deposito. Ignorare la legge della moderazione è la quinta caratteristica di Manas. La coscienza mentale deve ricordare a Manas la saggezza della moderazione. Con il respiro consapevole possiamo aiutare la coscienza mentale a guardare in profondità, a riconoscere Manas in tutta la sua illusorietà e a comprendere che c'è un seme di saggezza nella coscienza deposito. Quando la coscienza mentale pratica la concentrazione, l'oggetto della concentrazione è l'interessere, l'interconnessione tra tutte le cose e tutti gli esseri, la non-discriminazione. Se la coscienza mentale è concentrata su questo, la visione profonda si manifesta con sorprendente velocità. La sesta caratteristica di Manas è la tendenza a possedere, appropriarsi, fare propria qualsiasi cosa desideri. La Brahma è uno dei nostri impulsi più forti. Ci riempie di gelosia e ci spinge a cercare di possedere persone e cose, ma con la consapevolezza dell'interessere, vediamo che non possiamo possedere nulla. Trasformare Manas Grazie alla presenza mentale possiamo trasformare Manas. Attraverso il respiro consapevole possiamo aiutare la nostra coscienza mentale a guardare in profondità per riconoscere Manas in tutta la sua illusorietà e verificare che esiste il seme della saggezza nella nostra coscienza deposita. Quando Manas si trasforma diventa saggezza della non-discriminazione. C'è una storia che descrive molto bene la non-discriminazione. È la storia di un granello di sale che voleva sapere quanto fosse salato l'oceano. Sono un granello di sale, io sono molto salato e mi domando se l'acqua dell'oceano sia salata quanto me. Un maestro passò di lì e gli disse Caro granello di sale, l'unico modo per conoscere veramente la salinità dell'acqua dell'oceano è saltarvi dentro. E il granello di sale si tuffò nell'oceano e divenne una cosa sola con l'acqua del mare. Allora la sua comprensione divenne perfetta. Non possiamo comprendere qualcuno o qualcosa pienamente sino a quando non diventiamo una cosa sola con esso. Il verbo comprendere letteralmente significa includere qualcosa, diventare una sola cosa con essa. Non possiamo aspettarci di comprendere le cose se ce ne siamo separati. La pratica della meditazione consiste nel guardare la realtà in modo tale che non ci siano più frontiere tra soggetto e oggetto. Dobbiamo rimuovere i confini tra il soggetto della ricerca e il suo oggetto. Se vogliamo comprendere qualcuno, dobbiamo calarci nella sua pelle. Per comprendersi veramente, familiari e amici devono identificarsi l'un l'altro. L'unico modo per comprendere pienamente è diventare l'oggetto della nostra comprensione. La vera comprensione ha luogo quando smantelliamo le barriere tra il soggetto della comprensione e il suo oggetto. Ad esempio, ipotizziamo di dare qualcosa a qualcuno. Grazie alla saggezza della non discriminazione sappiamo che non c'è qualcuno che dà e un altro che riceve. Se pensiamo di essere noi a offrire e l'altro a ricevere, allora non c'è perfetto dare. Doniamo perché l'altra persona ha bisogno di ciò che offriamo. Si tratta di un atto molto naturale. Se stiamo praticando la generosità, non diciamo, non ci viene espressa alcuna gratitudine, non ci vengono neanche in mente simili idee. Attraverso la pratica della presenza mentale possiamo cominciare a riconoscere la presenza di manas dentro di noi. Se siamo consapevoli delle sue tendenze, possiamo utilizzare la presenza mentale, la concentrazione e la visione profonda per trasformarle e nutrire la saggezza della non discriminazione. Se non scappiamo, ma la riconosciamo, la abbracciamo e la osserviamo in profondità, la sofferenza comincia a trasformarsi e si manifestano liberazione e illuminazione. Nella nostra vita personale dobbiamo riconoscere ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. Cerchiamo di capire le necessità dei membri della nostra famiglia, della comunità e della società. Se sappiamo ciò di cui c'è bisogno, sappiamo cosa fare. Abbiamo uno scopo e da quel momento agiamo in modo da procurare abbastanza cibo, democrazia e libertà alle persone. Quando abbiamo uno scopo, stabiliamo cosa fare e il nostro contributo per portare la società in una direzione positiva. Per capire se è un'azione benefica o dannosa, chiediamoci se conduce alla nostra visione ultima. La saggezza della non-discriminazione Nella nostra coscienza deposito c'è un seme capace di trasformare manas, quello della saggezza della non-discriminazione. La discriminazione che distingue tra questo e quello e mette questo contro quello è il fondamento di molta sofferenza. È molto importante che la coscienza mentale riconosca il seme della saggezza della non-discriminazione che giace nel profondo della coscienza deposito e lo aiuti a manifestarsi. Con la pratica del respiro consapevole e del guardare in profondità lo aiuteremo a farlo. La saggezza della non-discriminazione è presente in ognuno di noi. Per esempio la mia mano destra invita la campana e scrive poesia. Nota L'espressione tronca invitare la campana in uso nel lessico rituale di quest'ordine si riferisce all'atto di suonare la campana di invitarla a suonare. Insieme alla campana si invita anche la nostra coscienza a risvegliarsi dalla dimenticanza e a trascendere ogni ansia e ogni dolore. Essa possiede la saggezza della non-discriminazione e non dice mai alla sinistra mano sinistra si direbbe che tu non sia buona nulla sono io che ho composto queste poesie sono io che scrivo in bella scrittura. No la mia mano destra non si è mai reputata superiore alla sinistra per questo la comunicazione e la collaborazione tra le due mani è perfetta. Non c'è alcun sentimento di superiorità di inferiorità e neanche di eguaglianza. Quando facciamo confronti finiamo per considerarci superiori o inferiori oppure cerchiamo di essere alla pari ma se ci paragoniamo discriminiamo e se discriminiamo soffriamo. Le cellule del nostro corpo collaborano senza discriminazione. Un giorno la mia mano sinistra teneva un chiodo e la destra il martello. Volevo appendere un quadro ma non ero molto consapevole così invece che battere il martello sul chiodo l'ho battuto sul dito. Immediatamente la mano destra ha posato il martello e si è presa cura della mano sinistra come se si prendesse cura di se stessa. La mano sinistra non se l'è presa con la destra perché ha in sé la saggezza della non discriminazione e la mano destra non ha detto mi sto prendendo cura di te mano sinistra ricordatelo. A sua volta la mano sinistra non ha ribadito mano destra hai commesso un'ingiustizia e io voglio giustizia dammi quel martello. Non c'è nessun tu nessun io nessuna discriminazione. Le due mani sono una cosa sola. Avviene come nella Trinità Dio come padre è in Dio come figlio e lo Spirito Santo è in entrambi. Questo significa interessere. in uno puoi vedere gli altri due. Ho provato un po' di dolore ma entrambe le mani lo condividevano perché in una relazione d'amore non c'è discriminazione. Questa è equanimità. Quando c'è la saggezza della non discriminazione felicità e sofferenza non sono più una questione individuale. felicità e sofferenza grazie alla saggezza della non discriminazione possiamo riconoscere che il malessere e il benessere esistono l'uno nell'altro. Normalmente crediamo di avere abbastanza malessere e vogliamo altro il benessere. Vorremmo fuggire dal malessere e andare nella direzione del benessere ma è proprio lì dove è il malessere che possiamo trovare il benessere. Se sfuggiamo al malessere abbiamo meno possibilità di trovare il benessere. Ogni felicità ha in sé il sapore della sofferenza come il fiore che se guardato in profondità rivela la spazzatura il suolo il compost da cui è nato. Sappiamo che senza compost non c'è alcun fiore. Quindi nel contatto profondo col fiore entri in contatto anche col compost che il fiore ha ancora in sé. Nutrimento Per fuggire alla sofferenza molti consumano cibo o intrattenimenti. Ci sentiamo così soli tristi vuoti frustrati o spaventati che cerchiamo di compensare le emozioni non piacevoli con un panino o un film. È il nostro modo di gestire il disagio nel profondo di noi stessi. Vogliamo nascondere il dolore la disperazione la rabbia e la depressione. Allora ascoltiamo musica apriamo il frigorifero per mangiare qualcosa leggiamo una rivista consumiamo. persino quando un programma in televisione non ci interessa affatto lo guardiamo lo stesso. Pensiamo che qualsiasi cosa sia meglio che provare quel disagio quel malessere che ci portiamo dentro. Più consumiamo più immagazziniamo tossine di violenza avidità disperazione e discriminazione e più peggioriamo la situazione. Con l'energia della presenza mentale e della concentrazione possiamo osservare in profondità la natura del nostro malessere e individuare il nutrimento che lo ha alimentato. Niente può sopravvivere senza alimentarsi nemmeno la sofferenza. Nessuna pianta o animale può sopravvivere senza cibo. Dobbiamo nutrire l'amore se vogliamo che sopravviva. Se non lo facciamo o gli diamo alimenti sbagliati morirà e in breve tempo si ribalterà in odio. Anche la sofferenza e la depressione hanno bisogno di nutrimento per vivere. Se la depressione rifiuta di andarsene è perché continuiamo ad alimentarla ogni giorno. Possiamo osservare in profondità ciò di cui si nutre la nostra sofferenza. La sofferenza si manifesta di volta in volta come un'intensa emozione capace di spingerci a pensare, sentire e agire in un certo modo. Se abbiamo individuato la sua fonte di nutrimento possiamo eliminarla e la sofferenza passerà. Se consumiamo violenza e sofferenza provochiamo maggior dolore a noi stessi e a chi ci circonda. Se poniamo fine al consumo di immagini violente e alla comunicazione intossicante trasformiamo la violenza e la sofferenza in noi così è più facile che sorgano la comprensione e la compassione capaci di guarirci e di aiutarci a guarire gli altri. Accettare la vita così com'è. Sappiamo che la vita comprende nascita malattia vecchiaia e morte. Fa parte della vita invecchiare ammalarsi e morire ma noi non vogliamo che accada. Se ci ribelliamo e protestiamo soffriamo di più. Se accettiamo la vita in tutti i suoi aspetti nei momenti di felicità gioia e pace ma anche in quelli di malattia vecchiaia e morte allora non soffriamo più e patire non soltanto non è un problema ma grazie al dolore abbiamo l'opportunità di provare benessere. Per superare la paura iniziamo a prenderne coscienza. In secondo luogo cerchiamo di non fuggire. la nostra tendenza è di scappare di fronte alla paura perché non ci piace e non vogliamo contattarla ma la paura torna sempre. Temiamo che possa accadere qualcosa oggi pomeriggio o domani. Viviamo con il timore dell'impermanenza quindi il secondo passo nella trasformazione consiste nel nutrire l'intenzione di stare dove siamo nell'osservare in profondità la nostra paura e accettarla. Se osserviamo e sperimentiamo profondamente la paura possiamo notare come reagiamo. Potremmo reagire con confusione o negandola oppure potremmo rispondere alla paura con gentilezza accettazione e compassione. Questa è la risposta che conduce alla guarigione. È il terzo passo. la visione profonda. Poiché sappiamo come guarire non abbiamo bisogno di aspettare che la sofferenza ci sorprenda. Grazie alla pratica la nostra presenza mentale diventa forte e stabile e non abbiamo più bisogno di aspettare che i semi della sofferenza emergano all'improvviso. Sappiamo che giacciono sul fondo della nostra coscienza deposito. Possiamo invitarli a salire nella coscienza mentale e far risplendere su di loro la luce della consapevolezza. Trattare la sofferenza è come maneggiare un serpente velenoso. Dobbiamo conoscerlo e diventare più forti e stabili per maneggiarlo senza farci male. Alla fine di questo processo siamo pronti a confrontarci con il serpente. se non ci confrontiamo mai con lui un giorno ci sorprenderà e un suo morso ci ucciderà. Il dolore che proviamo nel profondo della coscienza è simile. Se cresce e diventa grande e noi non abbiamo praticato e non siamo diventati stabili e forti nella presenza mentale quando si presenta non c'è nulla che possiamo fare. Dunque invitiamo la nostra sofferenza a emergere soltanto quando siamo pronti perché solo allora la potremo maneggiare con sicurezza. Per trasformare la nostra sofferenza non combattiamola non cerchiamo di disfarcene bagniamola semplicemente nella luce della presenza mentale. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.